Nei giorni scorsi a Torino i carabinieri di Veneria hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga a un 47enne di Torino. L'uomo è stato fermato dai carabinieri subito dopo aver venduto una dose di Crocodile a un cliente. L'uomo spacciava in casa e riceveva i clienti soltanto su appuntamento telefonico. Seguendo un cliente i carabinieri sono riusciti ad entrare in casa e a fermare il pusher di Crocodile, la nuova droga che viene dalla Russia. È un narcotico a base di codeina che ha guadagnato popolarità in Russia nel corso degli ultimi anni. Prende il nome della parola coccodrillo a causa dell'effetto che produce. La pelle marcisce e cade tutto.